Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è un rapper, personaggio televisivo e imprenditore italiano. Sono oltre 30.000 le firme raccolte da Fedez, a poche ore dal lancio della petizione in favore dell'aumento degli stanziamenti per il bonus psicologo. È l'ultima battaglia che il rapper ha deciso di combattere, chiedendo al governo di aumentare i fondi destinati alla salute mentale dei giovani. Già nel corso dell'ospitata fatta a che tempo, che fa domenica scorsa, Federico Lucia aveva parlato della necessità di innalzare gli stanziamenti. Lo scorso governo ha destinato per il bonus psicologo 25 milioni di euro, che hanno coperto solo il 10% della domanda. Questo governo ha deciso di tagliarli e portarli a 5 milioni di euro, ha dichiarato il rapper da Fabio Fazio, aggiungendo. Quello che vorrei chiedere al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Giorgetti. Non tagliate questi 25 milioni nella nuova finanziaria, perché significherebbe sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno.